I treni e le stazioni Liguri continuano ad essere oggetto di grande attenzione da parte delle forze dell'ordine. Sono state infatti intensificate nel periodo delle festività appena trascorse le attività preventive e repressive della polizia ferroviaria. Con l'obiettivo prioritario della sicurezza dei viaggiatori sono stati effettuati 559 servizi di vigilanza nelle stazioni, 107 scorte ai treni e 1.350 sono state le persone identificate. L'attività repressiva ha registrato complessivamente in Liguria 7 arresti e 29 persone denunciate in stato di libertà. Di rilievo il rintraccio e la cattura di un evaso e di due ricercati. Sul fronte della tutela del patrimonio dei viaggiatori sono stati effettuati 4 arresti per furto, di cui uno a seguito di estorsione e 9 denunce per borseggio. Alta è rimasta anche l'attenzione al fenomeno delle aggressioni al personale delle ferrovie. In questo contesto si sono conclusi due filoni d'indagine che hanno portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di quattro minorenni che stavano arrecando disturbo a bordo treno e nei confronti dei ferrovieri. L'attività di vigilanza proseguirà ora anche dopo la conclusione di questo periodo di festa, con controlli e presenza della polvere sia nelle stazioni sia a bordo dei treni.